oggi ti presentiamo la tua occasione d'oro diventa anche tu consulente magic cooker il nostro piano marketing è semplice veloce e i nostri strumenti sono il passaparola le dimostrazioni a casa oppure i social facebook youtube instagram tutti i firmati magic cooker e le ricette del cuore oltre al piano marketing avrai dei premi aggiuntivi e farai parte di un team straordinario i tuoi guadagni possono essere illimitati partendo da un 14 per cento fino a un 39 per cento in maniera semplice e veloce proponendo la nostra famosissima raccolta punti a tutti i tuoi contatti ora ti mostrerò come è facile passare da un 19 per cento a un 28 per cento ci sono cinque tuoi amici al quale hai proposto la raccolta punti e li aiuterai a raggiungere i loro mille punti tu farai 400 e insieme avete totalizzato 5.400 hai raggiunto il 28 per cento e perché no passiamo al 37 per cento ci sono sempre le cinque amiche che anche loro vogliono raggiungere un 28 per cento quindi tu proponi ad altre cinque persone ed anche loro proporranno a cinque persone tutti quanti insieme raggiungiamo i nostri obiettivi e raggiungeremo un 33 mila euro di fatturato che equivale a 4290 euro di guadagno come vedi facendo sempre le stesse cose puoi ottenere sempre di più e tutto ciò che sembrava impossibile con noi è possibile la strada del successo ti aspetta con magic cooker